come riuscire a farla entrare? l'unico modo è questo truscia in questo lato e entri con uno dentro l'altro eccoci qua a questo punto devi ruotare una volta che sei dentro così eccolo qua ruoti arrivi a questa angolazione e riesci a fare entrare dentro per uscire lo stesso modo arrivi a questa angolazione eccoci qua da così esci fuori ecco quando sei in questa angolazione riesci a uscire così riruoti intorno e riesci a entrare questo è l'unico modo per riuscire a entrare e uscire da questo complicatissimo rompicapo della lettera S